Ciao a tutti, bentornati su Magies of Lotus. Oggi ho deciso di fare un video un po' divertente su una top 3 delle cose più assurde che mi sono capitate nell'ultimo mese, potremmo dire. Sì, nell'ultimo mese. Sono delle cose che mi sono successe in real e o online. E niente, sono state talmente particolari, talmente assurde che ho deciso di farne una top 3 e di raccontarvele perché fanno veramente ridere. Prima di iniziare, brevemente vi ricordo il nostro nuovo partner Fantasiastore, di cui trovate il sito fantasiastore.it qua sotto. Il codice sconto Lotus 5, tutto maiuscolo, con cui potete avere il 5% di sconto su tutti i prodotti non già scontati. Quindi dateci un'occhiata, ci sono un sacco di cose bellissime e interessanti. Partiamo subito con il video. Allora, prima cosa assurda che mi è capitata. Opposition Agent, turno 1 su Fetch, che mi fa vincere il game perché l'oppo non ha più land. Allora, partiamo dalla premessa. Game Centurion amichevole. L'opponent mi fa... No, parto io facendo terra passo, palude passo. L'avversario fa Fetch, sfetcia. Io faccio Dark Ritual, aggiungo tre mana, Opposition Agent, non puoi passare la rassegna al tuo Grimorio per una terra e la gioco io. Quindi già è una giocata broken a dei livelli estremi perché ti ho tolto la landa, l'unica landa del turno, la prima, la tua prima terra. Io parto con Opposition e landerò io. Quindi già di per sé è una giocata rotta. Per di più il mio oppo non pesca più landa. Quindi faccio Opposition 3-2 e lui non cerca terra. Io l'ando faccio le mie cose, attacco di tre e lui per due o tre turni non vede terra, concede perché oggettivamente la partita è finita. Non che non sarebbe finita su un Opposition Agent turno 1 a prescindere, però il fatto che non abbia pescato terra e avesse tenuto una terra sola è proprio l'apoteosi totale dell'Opposition Agent. Poi vabbè, probabilmente lui non doveva tenere una terra, anche se il mazzo era molto aggressivo e la mano permetteva di tenere una terra. Soprattutto on the play, scusatemi on the draw perché iniziavo io, però niente, Opposition l'ha portata a casa. Seconda cosa assurda, 10 Poison Counter in un turno con Veneretid Root Priest. Partita stranissima di Modern in cui io propongo un Veneretid Root Priest che non mi verrà toccato, non si sa perché, fino a tipo turno 4, se non ricordo male. L'avversario giocava un controllo UV, scusatemi, UV, sì, UV puro. E niente, in una partita, no scusatemi, c'era anche del nero perché se no non poteva succedere quello che è successo. E Esper, partita stranissima, lui non fa niente, io non faccio niente, terra passo, terra passo, con Root Priest che in realtà fa anche qualche danno di Toxic. Però poi in un turno solo, lui mi toglie il, mi fa removal su Veneretid Root Priest e io trovo solo, ho solo risposte praticamente. Quindi succede una cosa stranissima per cui lui fa removal, io faccio Blossom in Defense, lui fa removal, io faccio un'altra protezione, cose così. 10 poison in un turno, non so neanche io come sia successa sta cosa, lui era morto già prima perché gli avevo già fatto dei danni di Root Priest. Quindi in realtà già solo con 3-4 spell sarebbe morto. Però abbiamo voluto, per ridere, abbiamo voluto provare a finire il turno per vedere quanti poison riusciva a fare nel turno e ne ho fatti 10, tondi, tondi. E niente, ha fatto abbastanza ridere, ovviamente era una partita for fun, così lui ha giocato pure male, però niente, 10 poison in un turno mi hanno fatto sorridere. Terza e ultima cosa, la più assurda di tutte, vincere i danni da comandante con Goalos. Qui ho sbloccato l'achievement, tipo missioni impossibili da fare e sì, ho vinto di 21 danni da comandante con Goalos. Partita stranissima contro Grist, nel quale lui non fa assolutamente nulla per un tot di turni e io ho Goalos giù, ma non ho la terra che fixa il mana perché me l'ha aslandata e non riesco più a trovarla, una cosa di questo tipo. E niente, andiamo avanti in una partita infinita in cui lui non pesca niente, io non pesco assolutamente niente, pesco terre per 8-9 turni o cose di questo tipo, ma giro di 3 da comandante. Lui non pesca assolutamente niente di utile, quando pesca qualcosa pesca un elfo, io il turno dopo pesco il removal, torgo elfo e attacco di 3. Quindi è una partita veramente stranissima, tra l'altro se il ragazzo, Marco se non ricordo male, con cui ho giocato ci segue e lo invito a commentare qua sotto perché è stata veramente una partita particolarissima. E niente, però l'ho portata a casa di 21 anni da comandante, una roba veramente strana ma è successa, è vera e ho voluto riportarla. Chiudo subito il video così rimane corto e simpatico come voleva essere. Vi invito a scrivermi anche voi delle cose strane che vi sono successe, così facciamo un po' di commenti, un po' di interazione, chiacchieriamo un po' qua sotto e magari sì, scrivetemi qua nei commenti tipo la cosa più strana che vi è successa nell'ultimo mese o nell'ultimo torneo, come volete voi. Ciao a tutti e ci vediamo la prossima volta.